Cambiamo pagina e apriamo quella cittadina perché oggi c'è stato il famoso, diciamo il tanto aspettato faccia a faccia tra il vice sindaco Roberto Grigoletto e i sindacati sulla questione Bailo. Sentiamo com'è andata. Alla fine il faccia a faccia c'è stato questa mattina a Casugana tra sindacato e vice sindaco Grigoletto su turni e impiegati al nuovo Bailo. Rappresentanti dei lavori che sono arrivati alla dirigenza dopo l'assemblea infuocata di ieri mattina. I dipendenti hanno tenuto a ribadire che per loro la flessibilità non è un problema, che per loro lavorare in una sede o in un'altra non è un problema. Quello che legittimamente chiedono è di essere messi nelle condizioni di lavorare dentro un orario di lavoro certo, dentro una programmazione certa, rispettando anche l'alternanza nei turni che gli verranno proposti. Perché a conti fatti la coperta è corta e chi rischia di fare i salti mortali sono i dipendenti, ha sottolineato il sindacato oggi a Casugana. Abbiamo richiesto concretamente di avere i dati su quanto personale serve, su come si intende riorganizzarlo, su come si intende valorizzare un museo che è qualcosa di importante per una città di Treviso. Abbiamo anche detto che per noi non è un problema estendere al massimo gli orari con aperture anche serali se serve nei momenti di maggiore attrazione turistica. Infatti il problema che sta emergendo sarebbero gli straordinari, segnale che inevitabilmente fa emergere il bisogno di nuove assunzioni. Per evitare poi di essere smentito, noi abbiamo i dati di orari straordinari che ci hanno fornito i lavoratori e diciamo insomma che sono ben oltre quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ecco, vorremmo evitare che dentro un'organizzazione del lavoro questo diventasse la forma ordinaria. Sindacato che ha già indicato al vice sindaco Grigoletto anche la possibile soluzione per far funzionare adeguatamente il bailo. Si rivolgono al governo. Siccome, insisto, Dario Franceschini è venuto qua a dire che è l'apertura del museo un qualcosa di fondamentale per questa città gli si spieghi che per far funzionare i beni culturali, i musei, le soluzioni positive che ci sono nelle città servono le risorse. Ora è tutto rinviato a giovedì prossimo, quando nuovamente il vice sindaco Grigoletto, il direttore del bailo Luppi e gli altri dirigenti dovranno dare risposte certe ai sindacati prima che dal chiuso per festività si passi al chiuso per sciopero.